Buongiorno, sono contento di avere questa opportunità di condividere con voi e di imparare insieme. Quindi io cercherò di vedere quali sono le massi antropologiche e relazionali che nella nostra cultura, soprattutto occidentale, si ha portato alla crisi ecologica. L'Enciclica Laudatossia afferma che meno è di più, mettendo così in evidenza il bisogno di rivedere il proprio stile di vita e di educarsi a una opportunità responsabile. I numeri che vedete la parte sono numeri della notatossia. Concretamente, dice, abbiamo bisogno di essere più soli, risparmiare energia e acqua, utilizzare e riparare gli oggetti che usiamo, evitare l'uso di materiale plástico, utilizzare trasformi pubblici, consumare prodotti locali e stagionati, non considerare nulla come rifiuti da tutare, perché l'ecosistema richiede che tutto venga riciclato. L'impronta ecologica che l'umanità sta mettendo a rischio è la sostenibilità dell'intero ecosistema. Per far fronte al naturale modello di sviluppo, chiaramente insostenibile, non basta con promuovere un ambientalismo verde, inteso come stranio alle dinamiche sociali e alle interazioni umane. Bisogna rivedere le basi filosofiche e antropologiche sulle quali si è costruita la modernità. Dice benedetto XVI, i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo perché i deserti interiori sono diventati così alti. Quindi la mia idea di base è questa. Non cederò questo metodo, cercherò di vedere quali sono le concezioni filosofiche e antropologiche che stanno alla base di questa crisi. L'idea è che se non cambia la nostra mente, il nostro cuore, le misure che possiamo prendere seranno sempre contingenti. Abbiamo bisogno di cambiare la visione antropologica dualista e la tessi dell'ecezione umana. Poi spiegherò cosa consiste in questo. Che sono alla base della cultura moderna. La tessi dell'ecezione umana bocca sui dualismi ottico e ontologico. Per acentuar la separazione tra l'essere umano e le altre che natura. Apprendo così la via a un antropocentrismo irresponsabile, al paradigma geografico, alla cultura dello scarto e a una dinamica di conflitto permanente e adutibile. Sembra che sempre sia un cuore. In economia, in sociale, a che corregiamo un ospedale. Qui si tratta di lotare contro agente patogici. Patogici, ma non vediamo nella faccia il patato. Quindi, questo è lo schema che ho preparato, però non vi dirò tutto, perché ho soltanto 20 minuti. Quindi, sicuramente le due prime parti si è riuscito. Nella cultura occidentale, la relazione dell'uomo con la natura è stata interpretata normalmente dalla prospettiva di una ideologia antropocentrica. Con la modernità, questa tendenza riceve nuovi impulsi e nuove motivazioni, così che si arriva a realizzare la segnalia assoluta dell'uomo sulla natura e sul proprio corpo. Nel XIX secolo, lo scientismo rafforza ulteriormente questo antropocentrismo studente e sostituisce la razionalità etica con la razionalità strumentale. Su questo mi piace molto Charles Taylor, che è il filosofo che l'avessi, spiega molto bene questo. Aprendo così la strada al paradigma tecnocratico e all'apertura dello scarto. L'attuale crisi socioambientale è conseguenza di questa antropologia essenzialista, che divide l'uomo internamente e lo separa dagli altri esseri viventi. Abbiamo bisogno invece di assumere una antropologia integrale, che non disprezzi il corpo e che superi questi dualismi marzani, che hanno avuto un modello di influsso su alcuni pensatori cristiani nel corso dell'istoria. Allora vi parlerò di due dualismi, dualismo ontico e dualismo ontologico, che sono alla base di una antropologia essenzialistica, che afferma che l'uomo è eccezionale, poco inferiore agli angeli, quindi staccato dal resto delle creatore. La filosofia occidentale ha sviluppato una concezione antropologica essenzialista, che appena alla creazione o alla rivoluzione, per inquatizzare la separazione tra l'uomo e gli altri esseri. La tesi dell'esenzione umana costura una rottura ontica tra l'uomo e le altre creature, cioè una radicale separazione tra gli umani e le altre forme di vita, che apparterebbero a un alto ordine di esseri. In base a questa separazione, l'uomo non riconosce alcun diritto agli animali e quindi egli non apprende al punto bene verso di loro. La natura sarebbe pura materiale, senza valore intrinseco e completamente disponibile agli appriccii umani. La tesi dell'esenzione umana si basa non solo sull'idealismo e ontico e ontologico, anche se io mi sembrerò su questi due, ma anche sull'esclusiva capacità umana di accendere alla conoscenza epistemica ed etica in modo inaccessibile alle altre creature. Secondo Schaeffer, le principali forme di questa teoria sono tre. Filosofia, l'identità umana non dipende dalla vita biologica o sociale, perché l'uomo è un mio, un soggetto, radicalmente autonomo e fondatore del proprio esse. Seconda, dal punto di vista sociale, l'identità umana è nel sociale. L'uomo sarebbe non naturale o addirittura innaturale. La vita biologica sarebbe solo il suo strato dell'umanità. Terza impostazione, culturale. L'identità provergente umana risiede nella cultura, che è intesa come creazione dei sistemi simbolici. Questa trascendenza culturale si oppone alla natura e al sociale. Quindi questi sarebbero i tre grandi gruppi di questa teoria, queste tre grandi impostazioni. Il dualismo ottico era già presente nella Antica Grecia, dove si inteneva che gli esseri umani debono superare il caos e mettere ordine, cosmo, nevecos e insistencia, in un rapporto sempre faticoso e confituato con le forze naturali e con il proprio corpo. L'uomo sarebbe essenzialmente diverso da quei animali, perché possiede locos, parola, ragioni, mentre gli animali sono immaginati e le loro azioni non superano il velo degli sinti e degli antichi. Molti secoli dopo, René Descartes acento a questa separazione dualistica. Ritiene ad esempio che il corpo degli animali è una magica, che sendo stata creata dalla mano di Dio, è incomparabilmente meglio ordinata e ha in sé movimenti tanto più meravigliosi di quelli che mai più uomini possono inventare. Ma alla fine è una magica. Non è un cristiano. È una magica. Quindi possiamo fare questo con noi. Segundo l'epistemologia cartesiana, l'illuminismo afferma che l'uomo è chiaramente diverso dal resto dell'universo. Reste extensa. Perché soltanto lui possiede la capacità di ragionare, che è il fondamento della sua esistenza. Res cogitas. Penso dunque solo. E gli altri che non pensano sono una categoria inferiore. Pertanto questo movimento, iniziato alla fine del XVII secolo, sostiene che l'uomo è razionale e libero, mentre tutti gli altri essi dei viventi rispondono rigidamente alla legge della dinamica. Gli animali sono un tipo di macchina, determinati da meccanicismi, biologici e senza capacità di pensare. Di franciscane non diciamo che l'uomo è razionale, non diciamo penso dunque solo, diciamo sono pensato dunque solo, sono amato dunque solo. È molto diverso. Il mondo non sarebbe una comunione di soggetti, bensì un pupio di occhi, descritti in termini matematici e geometrici. Più specificamente, il mondo è descritto come orologio, macchina, laboratorio, esperimento. I principi della materia del movimento sono sufficienti per comprendere il funzionamento. Le opere di Sark Newton e Grothrich Leibniz, tra gli altri, rapporteranno la concezione di questo modello meccanico del mondo, percepito in modo funzionalista e utilitaristico. Bersot, ad esempio, sostiene che la tesi dell'eccezione umana è la ottrade della filosofia dei moderni, almeno dalla rivoluzione copernicale. Tuttavia, negli ultimi decenni, la crisi socio-orientale ci sta costruendo a cambiare questo modo di concepire la natura e di relazionarsi con essa. Già nel 2007, Scherner annuncia la fine dell'eccezione umana. Il dualismo ottico si trova anche alla base dello spiritualismo disincargato, che non prevede alcun coinvolgimento nella soluzione dei problemi sociali ed ecologici. Quindi, il corpo e la natura sarebbero uno stato che si trattiene nella nostra ascesa verso l'Uno. Andiamo qua. Ci ce l'ho poco tempo. Quello è il dualismo ottico. L'uomo è un essere eccezionale, completamente diverso a quello degli animali e degli altri creatori. E il nostro corpo? Il nostro corpo pure. Il nostro corpo sarebbe anche una macchina collegato allo spirito, all'anima, soltanto di ceva de Kahn, la glanula linea. Quindi è il dualismo ontologico. Il dualismo ontologico distingue chiaramente tra il corpo e la dimensione spirituale e razionale dell'uomo. Questa sarebbe la più autenticamente umana e quindi il corpo deve essere subordinato. Si arriva così a descrivere l'uomo usato copie di termini contrastanti. Corpo, animo, razionalità, affettività, necessità, libertà, natura, cultura, istinto morale e così via dicendo. Francesco da Sissi ha dovuto affrontare il dualismo ontologico che era molto presente ai suoi tempi, ad esempio tra i cattari. Questo movimento erettico, manicheo, crostico e dualista disprezzava tutte le cose visibili e materiali, compreso il corpo umano, che sarebbe stato creato a Saga, il dio cattivo del Vecchio Testamento. L'anima invece appartiene all'orato ambito, quello del dio polo del Vecchio Testamento, e non avrebbe nulla a che fare con il corpo, che sarebbe solo un aglio imprimente. La mia testa è che oggi continuiamo con questo dualismo. Il corpo sembra qualcosa di accessorio, che possiamo manipolare a vicenda, come chirurgia estende o qualsiasi cosa, non importa, è qualcosa di accessorio. Pensate ad esempio al film Magix, se lo ricordate, quello che porta la parte razionale, quello che viene specificamente l'osco, e il corpo è qualcosa che si può prescindere. Nel XVII secolo, Cartesio fa una separazione netta tra l'arma razionale e il corpo. Nel primo elemento si trova l'essenza del uomo, caratterizzata dalla capacità di pensare, resfogica, mentre il corpo sarebbe un'aggiunta materiale che non differisce sostanzialmente dal corpo degli animali. Entrame le dimensioni dell'essere umano entrerebbero in contatto attraverso la viaggola lineare. Però sarebbero diverse. L'enfasi su una di questi due concorrenti darà origine a due tendenze contraposte nella comprensione dell'umano, idealismo e materialismo, ma entrambe caratterizzate da un forte dualismo. L'idealismo voglia solo la razionalità, sul pensiero, trascurando una dimensione corporea. L'idealismo invece riduce l'uomo alla materialità del corpo, considerandolo un semplice pezzo dell'ingranaggio cosmo. Infatti, l'affermazione antropocentrica della modernità e l'ottimismo iluminista convivono con antropologie reduttive che negano la dimensione spirituale dell'uomo e sostengono che è inevitabilmente dipendente dai suoi impulsi e condizionamenti sociali. Per comprendere il corpo sarebbe sufficiente l'osservazione diretta del suo comportamento, avvalendosi del metodo scritturale e stimolo-risposta. Oggi tante volte si dice «Se tu sei così è perché hai qualche condizionamento fisico, perché qualche genere in tutto è condizionato, sembra tutto meccanistico». Aristotele aveva affermato che alcune persone sono schiave per natura e condizioni dell'animo. Secoli dopo si arrivò perfino a legare che i barbari e gli indigeni scoperti avessero un'animo, giustificato così la schiavitù e la normalizzazione. Quindi questo sia un peccato anche a tante aspetti. Il dualismo ontologico continua ad essere presente anche oggi. Infatti, il corpo è visto spesso come estraneo al nucleo personale, un oggetto posseduto che bisogna modellare e manipolare per assicurare lo sviluppo della propria identità. Ancora in molti giorni ho letto che una persona aveva fatto 15 operazioni estetiche per sembrare, non so qual'attrizia, sembra che non abbiamo la propria identità, dobbiamo prendere l'identità di qualcun altro. e il corpo è una cosa che si ostacola il mostrare la propria identità. Operazioni estetiche, diet, cambiamento di sesso, ormoni, sono proposte come il modo migliore per essere se stessi, per liberare il mio più autentico. Come puoi essere se stesso se non usi questo profilo? Le diverse volte di dominio arbitrario sul proprio corpo si trasformano, e ce l'ho dato sì, in una logica volte sottile e domine sul creato che impedisce l'ecologia integrale. Se non accettiamo il nostro corpo non possiamo accettarlo. Dominio e cultura dello scarto Il dominio e i dualismi ontici e ontologici hanno portato alla logica del dominio, all'antropocentrismo discotico e alla cultura dello scarto. Per sempre i diritti umani che non vedono qualunitare e favorire la nostra intrinseca capacità di donazione sono state ridotte a mere barriere infensive per proteggersi dagli altri umani. La cultura occidentale è basata su un tomo o un lupus. Tutti siamo lupus. e in affidabili. Quindi bisogna fare la guerra, andare fu di meno. Quella immagine mi sembra rappresentativa. Santo Passo invece dice Homo homini naturaliter amicus. L'uomo naturalmente è a mezzo dell'uomo. Una impostazione molto diversa. I poveri diamantorati tra cui il sorello e la madre terra sono i primi a subire le conseguenze di questo antropocentrismo degli ato. e promettendo che esalta la propria autosuficenza e disprezza tutto ciò che percepisce come fragile e indifeso. A livello soggettivo ciò si traduce in un consumismo ossessivo. Sicuramente conoscete la curva di Instagram. dice Homo homini naturaliter amici. Il nostro mondo è la prima società dell'istoria che offre una felicità mondiale qui ed ora. E come lo fa? A base di consumismo, il credito facile e la sovescenza programmata. Acquistiamo un telefonino e abbiamo la sensazione di felicità. Che bello questo telefonino! Lo portiamo da tutte le parti ma pian piano cominciamo a vedere che non è così bene. Allora bisogna costruire un altro e poi un altro e poi un altro e poi un altro di consumismo. Per mantenere quella sensazione di felicità arriviamo alla cultura dell'asfalto. A livello soggettivo ciò si traduce in un consumismo ossessivo che tutto riduce all'invento di rilevanza. Tanto gli esseri umani esclusi quando le cose si trasformano velocemente in spazzatura. Siamo così arrivati alla cultura dello scarto e a un modo individualistico di percepire le relazioni personali e comunitarie. Anche il lavoro è molto una merda e valutato unicamente in base al salario. Avendone dimenticato le dimensioni relazionali si è un amico sullo senso cristiano di incontro gioioso con la natura e di collaborazione con l'opera creativa di Dio. Ecco, so che l'ho avuto tempo, quanto mi manca? Sì, allora vado velocemente verso la fine. Quindi bisogna superare il dualismo ontologico quello che volevo dire avevo preparato a questo punto ma non soltanto il dualismo ontologico anche il dualismo ontico con una nuova una nuova filosofia che superi questo dualismo. Io penso che l'antica che l'antica di Dornado si sta spingendo adottare un paradigma relazionale in cui siamo consapevoli che tutto è in relazione e noi non siamo così diversi a presto del creato. Se continuavo a accentuare questo fatto di essere diversi allora continueremo a promuovere una divisione. di solito vi faccio un riassunto al momento di affrontare il problema ecologico io nel libro che ho scritto su questo distinguo tre posizioni antropocentrismo e despotico quello che pensa che l'uomo è in grado deve usare come vuole perché lui è il signore assoluto del creato. Poi c'è un'altra posizione che è più comune tra i cristiani sarebbe amministratori siamo amministratori del creato e se non siamo bene ci chiederanno il perché quindi saremo puniti è come quando qualcuno ci incarica di qualcosa che vuole usare. Siamo amministratori ma noi ci stiamo non viene da dentro è perché abbiamo paura alle conseguenze della crisi psicologica perché magari tutto andrà in rovina e ora dobbiamo essere atenti però non siamo pronti. Allora spesso in questa posizione è come quando siamo in un arvello la stanza come nostra abbiamo cura perché altrimenti quando regiamo ci chiederanno di fare cosa però non la curiamo come cosa nostra. La terza posizione è quella di Francesco di Assisi della Lodato Sentirci fratelli e sorelli di tutte le creature noi non siamo eccezionali tutte le creature sono il nostro sovere quindi non c'è di sogno che ci chieda di avere cura di administrare bene viene da dentro l'etica o è autonoma o non è etica o è se è derogna se proviene della paura e le conseguenze non basta quello è volontarismo nel senso più di ore del tempo. verso l'ecologia integrale bisogna assumere un'ecologia integrale o è siccola che considere sempre che vi dicevo sto citando l'automus l'interazione dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali e questo implica cambiare tutto anche la teologia e ai miei studenti dicono come capite per esempio il tromba dell'innamorata concezione da una prospezione relazionale dobbiamo cambiare questo mondo di capire questo non per dire cose diverse ma per sottolineare altri aspetti tutti gli esseri dell'universo siamo uniti dalle gambe invisibili dipendiamo gli uni dagli altri e nessuno basta a se stesso bisogna tener conto degli migliori frutto della ricerca scientifica certo questo deve essere affrontato da tantissimi livelli perché una crisi profonda nessuna forma di sentienza può essere trascurata bisogna fare una conversione con lo che noi francescani o i cristiani in genere se non cambia la mente e non cambia il cuore tutto resta lo stesso la grave crisi ecologica richiede un cambiamento di atteggiamento assistenziale stile di vita paure fondamentali convinzioni è necessario che ognuno si inventa del proprio modo di maltrattare il planeta e avere un percorso di purificazione al rendere possibile la conversione ecologica corale io i miei studenti abbiano un articolo che ho scritto ultimamente e le dico e voi quando vi confessate pensate ai peccati ecologici qualche volta vi siete confessati di questo ma era le quattro relazioni con la vita adesso è un pochino con se stesso con le altre con la natura tu non puoi sentirti a posto se sei un esperpatore non si può più ignorare il problema ecologico ok andiamo avanti bisogna di una eco spiritualità e qui faccio rientrare anche altri aspetti anche di tipo credicioso crescere nelle virtù ecologiche nel digiuno conclusione dobbiamo superare i due i ontologici i ontici poiché non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia l'importanza dell'esperienza spirituale come necessario nutrimento per il difendio edico del cristiano il discorso logico razionale deve accompagnare questa esperienza ma la sola non basta perché deve diventare una passione per la cura del mondo deve uscire da dentro non basta la testa la testa ci può dare delle indicazioni razionali ma se non siamo convinti attentuosamente uniti al creato quello sarà marginale abbiamo bisogno di momenti interiore e di una mistica che ci animi perché se il cuore non cambia lo sforzo volontaristico ad un altro ok penso che basta grazie a tutti grazie a tutti